Giorgio Baccaroni, di cosa c'è bisogno in questo momento per quanto riguarda questi bambini che devono essere dati in affido? Abbiamo essenzialmente bisogno per migliorare le adozioni che ci sia uno strumento, quello dell'osservatorio sulle case famiglia, che può fare in modo, esercitando un controllo sulle case famiglia, ma anche un coordinamento e un'intermediazione, può fare in modo che migliorino le adozioni, facendo sì che i minori possano soggiornare il minor tempo possibile dentro le case famiglia. Nel periodo però necessario, seppur breve, in cui si trovano a soggiornare all'interno delle case famiglia, è necessario che queste case famiglia godano di tutte le condizioni migliori per poter ospitare i minori. E quindi l'osservatorio si propone proprio di far sì, con un controllo per impedire che i minori stiano troppo tempo lì e quando ci sono le condizioni vengano date in adozione, ma anche con un'azione di coordinamento e intermediazione, di fare in modo che le case famiglia più meritevoli possano ricevere i finanziamenti giusti ed andare avanti, ovviamente chiudere quelle meno meritevoli di case famiglia. In questo modo si arriverà all'obiettivo importante di migliorare le adozioni, soprattutto di garantire ai bambini il diritto ad avere una famiglia.